Dopo la consueta pausa estiva, i cantieri diurni nel tratto terramano dell'autostrada 14 sono tornati a pieno regime e con l'ora è ricominciato l'incubo delle code chilometriche. La ripresa dei lavori di manutenzione e modernamento ha subito fatto sentire i suoi effetti sul traffico, con un aumento significativo dei disagi per chi viaggia lungo l'importante arteria autostradale. Autostrade per l'Italia nel pomeriggio di ieri aveva segnalato 5 km di coda tra Atripineto e Pescara Nord per deviazioni su una sola corsia per i lavori di ammodernamento della galleria, condizione che purtroppo si sta ripetendo in maniera costante. Quando si parla di A14 si evoca un problema, l'A14 è un problema, l'A14 sta generando a tutti, passeggeri, chi si occupa di trasporti, ma chiunque deve per un motivo o per un altro percorrere questa autostrada, turisti compresi, un disagio enorme. E' altrettanto vero, l'abbiamo detto molte volte, che i lavori devono essere comunque fatti, non è che possiamo pensare di non ammodernare una rete autostradale ormai obsoleta rispetto alle necessità di oggi, quelle di 70 anni fa. Vedete, io non credo che sia solo un problema legato ai lavori, sicuramente è un aggravante importante, ma la realtà è che questo tratto autostradale è un'autostrada a due corsie ed è insufficiente, totalmente insufficiente a supportare tutto il traffico camionistico e quello delle vetture che da sud va verso il nord e viceversa. Una condizione che sta mettendo a dura prova gli automobilisti e gli autotrasportatori che sperano impossibili soluzioni per ridurre i disagi. Visto la durata dell'intervento, per questo c'è bisogno di trovare alternative fattibili. Dobbiamo assolutamente fare in modo che ci sia un raccordo ferroviario-passeggeri più importante rispetto a quello messo in campo fino ad oggi. Dobbiamo far sì che questi treni veloci colleghino il sud al nord e viceversa e siano più importanti, più smart e più numerosi rispetto a quelli messi in campo attualmente. E non da ultimo, ma forse in primis, convogliare la maggior parte del traffico dei mezzi pesanti su una rete intermodale. Come Commissione Trasporti e Logistica della Camera di Commercio abbiamo già creato un supporto intermodale che dall'interporto di Manoppello arriva fino a Parma e viceversa. Mi auguro che ci sia il buon senso anche degli imprenditori a optare per queste forme alternative di trasporto e a modernarci anche da questo punto di vista.